Anatomia, apparato locomotore, ossa della gamba. In questo video analizzeremo la tibia e il perone, le ossa appunto che compongono il secondo segmento dell'arto inferiore. La tibia è un osso lungo che presenta un'estremità prossimale, un'estremità distale e un corpo. Ciò che salta subito all'occhio della tibia è la sua doppia curvatura. Da prima in alto la tibia è convessa medialmente e concava lateralmente. Nella sua seconda metà invece la sua curvatura si inverte, dandole quasi l'aspetto di una S. Il corpo è costituito da tre facce, una laterale, una mediale e una posteriore. Avremo quindi tre margini. Il margine mediale è smosso. Il margine laterale è piuttosto tagliente e presenta l'attacco per la membrana interossea, mentre il margine anteriore diventa molto tagliente soprattutto nella parte centrale dell'osso. Tanto da prendere il nome di cresta anteriore. Le facce sono laterale, mediale e posteriore. Laddove le prime due sono piuttosto lisce, la terza si presenta liscia per la gran parte, ma in alto presenta una linea obliqua detta linea del muscolo soleo, sulla quale prenderà origine uno dei muscoli che compongono il polpaccio. Analizziamo adesso l'estremità superiore della tibia. Come potremmo notare, presenta due strutture dette condili. L'articolazione del ginocchio è molto particolare proprio perché oppone due condili a due condili. In realtà, sulla faccia superiore, questi condili presentano delle cavità, chiamate appunto cavità condiloidee. Tra i due condili è presente un'eminenza intercondilare. In realtà si tratta di due creste diverse, una laterale e una mediale, separate da un solco. Questa eminenza è completa posteriormente. Anteriormente, le due creste terminano in un piatto, chiamato anche aree intercondilare. Posteriormente, al passaggio tra la faccia superiore e la faccia posteriore, è presente un piccolo piatto chiamato aree intercondilare posteriore. La superficie laterale dei condili è piuttosto liscia. Anteriormente, subito al di sotto dei condili, si forma una spessa tuberosità, detta tuberosità tibiale, che darà attacco al tendine del muscolo quadricipite femorale. Posteriormente, se si rende trasparente la fibula, si può notare una faccetta articolare strutturata apposta per quest'osso. Al di sotto della testa, nella prima parte del corpo, noteremo la linea obliqua, già citata prima. L'epifisi distale della tibia si mostra più piccola, se vogliamo. Presenta uno slargamento mediale, la cui faccia inferiore sarà piuttosto convessa e andrà a formare una struttura per l'articolazione tibiotarsica. Medialmente, invece, si formerà una struttura protundente chiamata malleolomediale della tibia, che sulla sua faccia laterale presenterà una faccetta articolare per completare l'articolazione tibiotarsica. Inoltre, se rendiamo ancora una volta trasparente la fibula, possiamo notare che sulla faccia laterale dell'epifisi distale è presente un'ulteriore faccetta articolare per l'articolazione tibio-fibulare distale. Insieme alla fibula, la tibia, nella sua parte inferiore, forma una complessa faccetta articolare detta anche mortaio. Il perone, o fibula, è anch'esso un osso lungo, è disposto nella gamba più lateralmente rispetto alla tibia, ma non costituisce affatto un osso accessorio, in quanto la sua forma e la sua struttura gli permettono di scaricare in maniera corretta il peso corporeo. Il corpo è rettilineo e presenta una faccia anteriore, una faccia posteriore e, infine, una faccia mediale. Dei tre margini che delimitano queste facce, quello mediale è il più aspro e servirà per l'attacco della membrana interossea. L'epifisi prossimale della fibula è slargata. Subito al di sotto di queste epifisi ovviamente troveremo un cosiddetto collo. Tutta l'epifisi prossimale può essere anche chiamata testa della fibula. Presenta una struttura detta apice, che altro non è che un processo protundente in alto, e una faccetta articolare per l'articolazione con la tibia, o tibiofibulare prossimale. L'estremità inferiore è particolare in quanto presenta una faccetta articolare per la tibia, per formare la tibiotarsica distale, una faccetta articolare per le ossa del tarso, principalmente la stragalo, e, infine, la sua porzione più laterale forma il malleolo laterale, che servirà per l'origine e l'inserzione di alcuni muscoli. La faccia posteriore dell'epifisi distale presenta una fossa, subito medialmente al malleolo, che si chiama fossa malleolare. Questo video è stato girato con Anatomy Learning, un interessante web app, il cui link lo trovate in descrizione.